Anche il Signore dopo aver creato l'universo ha avuto bisogno di riposarsi ed ha utilizzato una sedia. Quante sedie utilizziamo noi in casa? È l'oggetto più tormentato d'arredo perché ci saltano sopra i bambini, si dondolano e tutto. Anche su questo oggetto Catas si muove da molto tempo eseguendo tutte le prove di sicurezza, resistenza e durata. Richiedeli al tuo fornitore avrai la sicurezza che una sedia oltre ad essere bella è anche resistente. La sedia è uno dei mobili che usiamo più frequentemente nell'arco della giornata e spesso pensiamo poco ai rischi che possono occorrere nell'utilizzo di questo componente. A partire soprattutto dalla stabilità cioè dal rischio che la seduta si possa ribaltare al momento che ci sediamo in determinate posizioni e qui abbiamo appunto una prova per verificare la stabilità applicando dei carichi verso avanti, verso il laterale e verso il dietro a simulare posizioni che la persona assume quando si siede e verificare quindi se c'è un rischio di ribaltamento. Si passa poi alle prove di resistenza meccanica che simulano la persona che si siede sul sedile e si appoggia allo schienale e ripete questa operazione per variate volte. Infatti la prova consiste nel ripetere per qualche decina di migliaia di cicli questa operazione. Un'altra tipologia di sedute che sempre più spesso troviamo nelle nostre case sono le sedie cosiddette home office. Sono delle sedie stile ufficio che però vengono utilizzate per usi domestici a casa per piccoli uffici. Queste sedie hanno spesso dei componenti come ruote e colonne a gas che anche vanno provate e testate in quanto sono componenti abbastanza a rischio. Alla fine delle prove il CATAS rilascia un rapporto di prova che è un documento che certifica la conformità alle norme dei prodotti provati.